Come facciamo per creare delle fotografie in bianco e nero con una colorazione un po' artistica? Questa è una domanda che mi hanno fatto diversi utenti per cui nel video di oggi vado a farvi vedere uno dei 100 modi in cui possiamo prendere una fotografia a colori, trasformarla in una fotografia in bianco e nero ma non ci focalizzeremo sul bianco e nero, quello dei puristi, bensì andremo a vedere come possiamo fare per andare a inserire una dominante cromatica anche e soprattutto copiandola da altre immagini, da altre fonti che abbiamo a disposizione. Ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo ma vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché ci sono diversi passaggi che vanno seguiti in maniera abbastanza precisa anche se poi io incoraggio ciascuno di voi a cercare di introdurre qualcosa di vostro nel flusso di lavoro in maniera tale che io copierò i colori di una foto, io non voglio che voi copiate i colori che io ho copiato bensì che ne andate a introdurre degli altri, magari campionandoli da altre fonti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende però diciamo che in vita mia qualcosa di artistico mi è capitato di farlo e quello che andremo a vedere oggi non ha tanto a che fare con il mio lavoro per le aziende quanto piuttosto con una sorta di lavoro concettuale che va in direzione un pochino più artistica. Ovviamente come sempre se argomenti di questo tipo vi interessano io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, fatelo subito perché altrimenti ve lo dimenticate. Un like a questo video voi non ve ne accorgete ma mi aiuta veramente tanto. E andiamo a incominciare. Molto bene, come potete vedere qui abbiamo una fotografia in bianco e nero con una dominante cromatica abbastanza marcata. Non so se riuscite a vederla a monitor, io adesso ve la ingrandisco. Vedete che non è proprio bianco e nero, infatti se noi andiamo a campionare il colore eccoci qui, vedete che non è bianco e nero, è un grigio che però contiene parecchio blu. Quindi come possiamo fare per trasferire questo look su un'altra foto? Andiamo in particolare a prendere un'altra foto. Come potete vedere qui abbiamo una fotografia scattata ormai credo anni fa con Erika Molinari. La trovate come Ninfea ASMR qui su YouTube, andate a dare un'occhiata al suo profilo perché ci sono belle cose. Ora, quello che noi andremo a fare sarà prendere questa fotografia in bianco e nero, la trasciniamo dentro a questa fotografia. Come potete vedere è molto più piccola, ovviamente ha giusto una piccola precisazione. La foto di Erika l'ho fatta io, mentre la foto dell'airone non è mia. L'ho presa da Facebook e mi cospargo il capo di cenere perché non mi sono segnato il nome dell'autore. Quindi questa cosa, mi rammarico tantissimo di questa cosa, non è mio intento rubare le immagini, anzi io voglio creditare la persona. Quindi se chi ha fatto questa foto è in ascolto me lo segnali in un commento che metto da qualche parte il tag a Instagram o quant'altro. Non sto facendo soldi comunque con questa immagine ovviamente, la sto solo prendendo a esempio. Allora, che cosa facciamo per andare a trasferire i colori di questa immagine sulla nostra foto? Allora, andiamo a selezionare un livello di regolazione mappa sfumatura. Ok, come potete vedere non è andato tutto proprio come avrebbe dovuto. Adesso quello che noi facciamo è che andiamo a mettere la nostra foto campione al di sopra. A questo punto possiamo andare a selezionare i colori. Quindi aprendo questo pannello possiamo andare a selezionare un colore chiaro. Ah, dimenticavo, una cosa un po' antipatica che dobbiamo ricordarci di fare è quella di andare a invertire la maschera del nostro livello di regolazione. In questo modo lo rendiamo invisibile perché se non lo facciamo Photoshop campiona dal livello di regolazione. Quindi dobbiamo nasconderlo per andare a fare il campionamento. Una volta che l'abbiamo nascosto possiamo a questo punto sì andare a campionare i nostri colori. Vedete che adesso non mi becca più il bianco come prima stavo facendo erroneamente, ma mi becca un colore un po' più scuro del bianco. Facciamo la stessa cosa per i toni scuri e andiamo quindi a beccare qualcosa di più scuro possibile. Questo è un sistema a due colori dove io vado a identificare un colore chiaro e un colore scuro e questi due colori mi daranno la mappa della mia immagine. Adesso io gli vado a dire ok e a questo punto torno a invertire la mia maschera. Come potete vedere abbiamo efficacemente applicato i colori della nostra immagine sorgente sopra la fotografia che avevamo scelto. Ma a noi questo non basta perché vogliamo adesso andare a migliorarla un pochino. In particolare l'immagine di partenza come potete vedere è più contrastata quindi noi adesso andiamo ad aggiungere un livello di regolazione curve e andiamo a creare un paio di punti per toccare il contrasto della nostra immagine. Vado a dargli luminosity come metodo di fusione perché altrimenti andrebbe ad agire anche sui colori. Io questo non lo voglio i colori li ho scelti e quindi non voglio che vengano ulteriormente toccati. Vero anche che potrei mettere il livello di regolazione in cima però in questo modo vedete che perderei il contrasto che ho introdotto con le curve quindi preferisco lavorare in questo modo. Ok a questo punto qui siamo a 200% per cui scusatemi se sgranerà un pochino perché siamo oltre la risoluzione nativa. Però è giusto per farvi vedere quello che abbiamo fatto siamo passati da un'immagine a colori a un'immagine che sostanzialmente riporta esattamente la stessa sfumatura di colori dell'immagine campione. Questo è grosso modo il procedimento che vi voglio far vedere oggi quindi ripetiamo insieme tutte le fasi. Andiamo a selezionare una fotografia nostra andiamo a selezionare una fotografia campione una fotografia con dei colori che ci piacciono. Andiamo a selezionare il livello di regolazione gradient map a questo punto invertiamo la maschera sul nostro livello di regolazione così la rendiamo invisibile. Campioniamo i due colori uno chiaro e uno scuro dalla nostra foto dopodiché possiamo andare con un livello di regolazione curve a gestire il contrasto della nostra immagine. Se mettiamo metodo di fusione luminosità impediamo che questo livello interagisca anche con i colori. Ora è vera anche un'altra cosa noi abbiamo fatto questa lavorazione e io la sto tenendo al 100% ma è vero anche che si può andare a dargli una gradazione diversa. Io gli potrei dire 20% gli potrei dire 50% gli potrei dire 80% oppure gli potrei dire 100% vedete che tra 80 e 100 cambia parecchio. Io posso andare a introdurre un po' della lavorazione che ho fatto non è necessario mantenerla tutta quindi dipende dalle esigenze ovviamente se vogliamo un bianco e nero definito la teniamo al 100% invece se vogliamo una cosa intermedia dove riportiamo dentro un po' di colore possiamo anche dargli una misura intermedia. A questo punto amici vi chiedo come sempre lasciatemi sapere in un commento che cosa ne pensate questo è solo uno dei metodi con cui possiamo andare a dare un bianco e nero un po' marcato alle nostre fotografie quindi un bianco e nero finto in realtà non è un bianco e nero da puristi questo è un bianco e nero con una dominante cromatica molto definita che noi scegliamo da un'altra immagine. Quindi è una cosa che io vi sconsiglio di fare sempre non fatela diventare la vostra cifra stilistica perché è una cosa che secondo me stanca è una cosa che potete fare ogni tanto però è un giochino divertente come avete potuto vedere ci si mettono veramente pochi pochi clic fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!